il concetto di metaverso e di derivazione fanza scientifica e rappresenta nella sua accezione letterale una gigantesca sfera di circa 65 mila chilometri di diametro che rappresenta un mondo virtuale oggi il metaverso rappresenta un mondo un sistema di mondi 3d digitali all'interno del quale si può vivere una realtà parallela rispetto a quella fisica il mondo del metaverso ha subito una grande attenzione un dibattito particolarmente vivido sia perché è stato oggetto delle riflessioni e anche delle speculazioni finanziarie sul tema delle criptovalute e degli nft sia perché è stato considerato l'evoluzione naturale dei social network da alcuni dei grandi player tecnologici primo fra tutti facebook che addirittura ha cambiato il suo nome in meta per abbracciare il concetto di metaverso come futuro della nostra vita social esistono ancora alcuni dubbi in merito allo sviluppo del metaverso soprattutto nel breve periodo problemi che sono legati al costo e alla possibilità di realizzazione del contenuto su questo tipo di piattaforme non di meno già adesso alcuni proto metaversi esistono mi riferisco alle piattaforme di gaming che raccolgono dai 300 ai 500 milioni di utenti attivi mensili sulla base delle stime e che generano un mercato di ben 54 miliardi di dollari di acquisti diretti per gli avatar sotto forma di skin possibilità di gioco o vestiti per i personaggi di queste piattaforme le più famose delle quali sono roblox e fortnite ma esistono più di 40 mondi che nascono con l'obiettivo di ospitare esperienze di metaverso alcune delle più famose sono the sandbox e the central and che sono stati oggetto di una grandissima attenzione anche se è stato dimostrato che sono in una fase di stanca dal punto di vista del contributo creativo da parte degli utenti per il futuro il tema chiave è che una tecnologia innovativa come il metaverso ha senso di esistere e di essere adottata da parte degli utenti nel momento in cui è in grado di suscitare delle emozioni complementari paragonabili o addirittura più forti di quelle che abbiamo nella realtà fisica in questo momento il costo di produzione dei contenuti e l'emergenza di bisogni risolvibili in modo efficace dal metaverso non è ancora così di là da venire e quindi non mi aspetto che succeda questo nel breve periodo quello che accade già oggi è il lavoro e gli investimenti da parte dei governi delle big tech e delle imprese nello sviluppo della capacità di progettazione di esperienze 3d e di utilizzo della capacità computazionale e dell'intelligenza artificiale per creare dei mondi paralleli con i quali possiamo cercare di lanciare un prodotto prevedere quale possa essere l'effetto di un'operazione chirurgica su un paziente quando particolarmente complessa da rischiare nel mondo fisico oppure rivoluzionare il sistema del online conferencing o dell'education creando degli spazi immersivi di collaborazione tra gli individui per diminuire e abbattere totalmente le distanze spaziali in ultima istanza il metaverso è una rivoluzione tecnologica potenziale che nasce all'intersezione di tecnologie già esistenti e che potrà rappresentare un cambiamento del nostro modo di vivere se e solo se sarà in grado di offrire soluzioni a reali problemi dell'essere umano